chinuccio è partita la mamma e tu senza di lei non mangi perché niente ragazzi rosi a sanremo io non sono potuto andare perché ho qualche impegno oggi poi domani mi porterò a un evento molto carino e quindi rimango con kino che senza mamma è triste non mangia sta lì che devo fare dai kino domani torna forza ma 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 ma